Una strada strettissima che conduce al popoloso rione di Messina 2 dai reparti ospedalieri dell'azienda Papardo Piemonte. Siamo in via salita a continuo per percorrerla sulle quattro ruote è necessaria una certa cautela e se si aggiunge che la via in questo tratto è a doppio senso di circolazione si capisce quanto sia necessario intervenire per allargarla. La soluzione è stata individuata da tempo, basterebbe abbattere questo muro che sostiene una scalinata in disuso e guadagnare almeno tre metri. Da anni il consigliere di quartiere Santi Interdonato chiede che questi lavori vengano realizzati ed oggi finalmente si registra un importante passo in avanti. Il muro di proprietà dell'azienda ospedaliera sarà ceduto anche grazie alla volontà del direttore generale Michele Vullo senza oneri al comune di Messina che potrà così avviare gli interventi previsti da un progetto già realizzato, anche il finanziamento è già previsto. Sono passaggi che essendoci la volontà possono essere anche rapidi, per tale ragione assieme al consigliere comunale Giuseppe Santalco autore di un emendamento molto importante per lo stanziamento delle somme, qui si parla di un investimento di circa 350 mila euro chiediamo all'assessore De Cola, all'amministrazione di non indugiare assolutamente proprio perché c'è la volontà degli enti.